Il freddo non esiste. No, amico, sei in errore. Un giorno un savio illuminare spiegò l'esistenza del dolore. Il freddo non esiste, ma è l'assenza di calore che fa tremare e rende triste. Quel savio al professore così spiegò cos'è il male. È l'assenza dell'amore. Il tuo cuore è rancoroso, perciò non hai accettato quel calore luminoso che nel tempo hai allontanato. Il buio non esiste, se nella luce resterai, il dolore che persiste mai più proverai.